Oh! Ma ragazzi, ma che ci fate qua? Ma siete entrati nel mio computer? Certo che siete proprio strani! Ehm, aspetta, ma questo non è il mio computer, ma che cavolo! Oliver! Ok, c'è una cosa strana, forse un virus è entrato nel mio Windows! Perché ci troviamo nel 1999? Non mi pare che siamo nel 1999! Ci sono anche i fastidiosi audio bug! Il mio nome più l'anno corrente! E questo è il consiglio che mi danno! Ok, quindi Oliver 1999! Olive con la Oliver 1999! Sì, ce l'abbiamo fatta! Benvenuto su Microfast Winbox! Ok! Utilizzando questo sistema operativo dovrei venderci l'anima e darci tua nonna e tutti i tuoi soldi in banca! Allora, andiamo un po' a vedere che succede qui! Sistema! Aiuto, ma cosa utilizzo? Abbiamo un Bendium con la B! Un bellissimo Bendium! 233 MHz! Ma... Ma che stiamo a dire che stiamo a fare? Oliver! Ti devo prestare la mia 3080 Ti? Scusi, miss! Smettila di farmi perdere tempo! No, non ho bisogno di aiuto! Non ho bisogno di cibo! Non ho bisogno di niente! Smettila di farmi perdere tempo! Il mio prezioso tempo! Tempo che dovrebbe essere investito nella creazione! Questo sarà un bel gioco? Sì, ma certo! Dovrà esserlo! Ma è il creatore di questo programma? Oppure... Non sai nulla! Non sai uno schifo di quello che significa creare un gioco! Smettila di intrometteri sulle cose che non sai! Muori! Ma è cattivello! Per fortuna comunque la buttate nel cestino così che nessuna... A parte me faccia le vedesse! Ah, poi abbiamo Paintbox! No, dai! Cioè, Paintbox volevo usarlo! Paintbox è la cosa più bella! Volevo sfoggiarmi le mie doti artistiche! Non posso aprire Paintbox! E Music Box! Almeno tu! Oh! Ross Wugens Ostizio! Queste sono musiche no copyright di YouTube! Le conosco! Ok, alcune sono un po' strane, sinceramente! Però abbiamo una certa musica chiamata Error! Si ripete in continuazione? O sbaglio? Mi piace questo Error! Oh! Che succede? Sono stato hackerato! Da un troio... Da un figlio di trotta! Chiudi, 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 chiudi! Mannaggia! Ma che cacchio è successo? Ma sta musica era da pazzi! Oh! La cosa che sto capendo è che siamo entrati nel computer di un developer! E qui ha la lista delle cose che deve fare nel gioco! Ha già fatto i movimenti del personaggio, i nemici, la soundtrack, però mancano gli script, il menu, rifinirlo, pubblicarlo, anche la storia manca! Ma quindi, se ha fatto un gioco, forse il suo gioco è da qualche parte, non è che nei suoi file personali... Mi sento un po' uno stalker a dover andare qui, però... Ehi! Game files! Build! Game.exe! C'ho paura! Ok, vediamo prima la storia! No, devo ancora pensarla! Eh, pensavo di mettere un mostro che ti seguisse e tu devi ucciderlo, quindi è una cosa molto stupida! Ci sono altre cose... Aiuto ancora questo figlio di trotta! Pezzo di erba! Nabbo infamez! Ti brucio! Norton! Dove sei Norton? Norton, fai il Morton! Non ruberai il mio gioco! Vattene via! Ma io voglio... Cioè, ha messo praticamente un blocco alla cartella per andare a fregargli il gioco! Vabbè! Proviamo questo gioco! Non puoi usare il gioco perché il programma è corrotto! E l'errore non lo so, ragazzi! Questa roba non mi piasa! Questa roba non mi piasa affatto! Non va bene, non va bene! Licenza! Forse magari con la licenza potrebbe tornarmi utile! Vediamo altre cartelle! Oliver Frank! Frank è il creatore del gioco! Lavorava a Fonny! E ha imparato un sacco di robe con il team! Poi ho lasciato lavoro per creare il gioco dei miei sogni! È stato alla Charleston University! E si è laureato alla Stonebridge School! Progetti King of War! Un gioco 3D action! Un uomo pelato che uccideva dei! Va bene! Me lo ricordavo diverso Hitman! Ah no! Ok! God of War! King of War! God of War! Ora l'ho capita! Non so se tutta questa roba ci tornerà utile per risolvere il caso! Perché io mi trovo ancora nel suo computer! Ci sono anche dei comandi! E anche delle foto! Ah ok! Gli occhi un po' da drocato! Però questo è il nostro Oliver! Ok! Si vede che ha nerdato eh! Si vede che... Delle occhiaie! Ha sviluppato per molti anni questo gioco! E poi... Gli piace mettere questa sorta di angioletto! Magari è una statua famosa e adesso non la so... Non so quale sia però! Ok! Ehm... Command box! Ok! Questa è la CMD! Questa è la CMD! Nella CMD possiamo mettere questi comandi! Io sono un pro su queste cose! Ok! Scriviamo... Fix... Fixgame.exe! Il tuo programma è stato sistemato! Ce l'ho fatta! Ok! Ping! Vediamo quanta connessione ho! 725 di ping! Tu non puoi giocare a Counter Strike caro mio! Ti teletrasporterai tantissimo! Reset! Ho provato a scrivere reset e mi dice Tu non cancellai il mio gioco! Brutto schifoso! L'unico modo per cancellarlo è uccidermi! A te calmino eh! Ma possiamo anche customizzare! Vai! Dai! Questo non è male! Abbastanza Windows XP! Mi ricorda Windows XP! Possiamo anche andare su internet? No! Forse sì! No! Questo è per pochi! Ah! Il rumorino ASMR! Godus! Godus Populus! Lo ricordavo un po' meno creepy però! Va bene! Ok! Allora io in teoria ho sistemato il gioco! Quindi andiamo a giocare sto gioco! Sì! Funziona! L'ho sistemato! Sembra una specie di Slenderman dove devo raccogliere forse le candele! Oliver! Sei unito come mostro! Ma quindi il mostro è Oliver? Ma stai scherzando? E non posso correre per sempre e ho veramente poco tempo! E credo di vederlo! No! No 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 no! No 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 no! Ok! Ok! Credo di aver visto qualcuno! Questa roba non mi piace affatto! Ah c'è un'altra candela! Ah c'è un'altra candela! No! Mi sta seguendo ragazzi! Oliver mi sta seguendo! Ne ho otto da trovare ancora! Erano dieci in tutto! Ma ne vedo un'altra! Però non ho stamina! Non so come riprenderla! Questo è un problema! Non ho tanto tempo! Cioè! Ogni volta che prendo una candela però resetto il tempo! Però mi sta seguendo! È la fine se mi prende! È la fine! No no! Si avvicina troppo veloce! Si avvicina troppo veloce! Oliver! Oliver figlio di mamma! Figlio di papà! C'è un gazebo! C'è uno strano gazebo! Via di qui! Via di qui! Scendiamo dalla parte opposta! Qua si può entrare? Non si può entrare! Cacchio! No! Ok! Mi si è risettata la stamina! Grazie al cielo! Sei candele! Sei candele! E il mostro continua a seguirmi! Ok! Siamo a cinque candele! Ok! 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 Vai così! Vai così! Siamo a quattro! Io non so dove andremo a finire! Porca vacca Oliver! Lasciami in pace! Sta creepy sta cosa! Perché non c'è nessun rumore! Ok! Sì! Ah! Che rumore mi hai tirato! Mi hai fatto prendere! Oh! No! Vai fuori! Vai fuori! Vai fuori! Vai fuori! Vai fuori! Vai fuori! E mi ha mandato fuori! Mi ha fatto resettare! Ma che rumore! Ma che rumore ha! Ma era il suono del diavolo! Del diavolo proprio! Tra l'altro adesso ho riaperto i termini di servizio e infine c'è scritto tipo Se tu violi i termini di servizio potremmo anche ucciderti! Grazie! Allora vediamo se devo rifare tutto da capo! No! Non devo! Meno male! Ok! Ok! Allora! Questa volta! Facciamo! Velocemente! Non facciamoci fregare dal mostro! Non facciamoci fregare dal mostro! Intanto mi sto imparando il pattern della mappa! Quindi buonino! Dai! Dai! No! 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 Maledetto! Sei un maledetto! Sei! Se si avvicina inizia a correre! Questo è un grosso problema! Zio Nooo Schermo blu Non ho fatto in tempo Mannaggia Schermo blu è venuto Nooo Cosa vuoi? Hacked Ancora? Sì ma dai No no Hacked qui no Hacked qui no Cioè mi Mi viene a rompere le balle Signore Eduardo Cioè è un casino Lavorare con sto pazzo Con l'ultima candela Oliver addio Oliver is gone Avevo una pistola Mi era apparsa una pistola Per un secondo Intanto Signora hacker Fuori Ecco Oliver è morto Non c'è più nessun gioco Ma che mi stai dicendo? Che devo fare qui? Chiudi Che vuol dire? Aiuto No Devo trovare un modo Licenza Ah qua devo mettere il codice di gioco Praticamente Ho capito Questo pc Apparteneva ad Oliver Ma non è più di Oliver E quindi dice qua Doveresti distruggere l'hard disk Noi non ci siamo riusciti Quindi divertiti con il tuo quasi nuovo prodotto Quindi forse questo Oliver È uno spirito Dentro questo computer Porca vacca E levati Provo a mettere la licenza di Windows Intanto Sperando che Quixi 4G Ok Attivato Bene Rinnova ora Dato che l'ho ucciso Ora posso Format Ora scrivo Reset Sì Vuoi veramente risettare il sistema operativo? Cancellare tutti i tuoi file Programmi E i settaggi Inserisci la tua password Oliver 1999 Vai Ok Ok Forse sono riuscito Forse sono riuscito A cancellare il virus Il virus di Oliver Ho distrutto il suo spirito Credo Spero Sì Con i miei poteri di Acer Ce l'ho fatta Ma sono fuori E sto guardando Lo schermo della mia CMD Una volta che l'ho Cancellato Ma Oliver Forse è ancora qui Non lo so Ok No No Oliver È un lampadario No Oliver è un lampadario Sul tetto di casa mia E anche fa le lucine E anche fa le lucine Maledetto È uscito È uscito dal computer Ora vuole me Lo spirito di Oliver Era qui Tutto questo tempo No Ora forse può andarsene Spero che se ne vai Che succede? Ed è finito così No Aspetta Vabbè Carino Carino Vedete se ne sta andando Se ne sta andando Quindi Siamo riusciti a Liberarci di lui Potremmo dire Credo O forse eravamo noi Oliver Tutto questo tempo Ma credo che siamo entrati Nel suo PC Ci ha perseguitato E ora Passerà oltre Però Non ho capito Perché Oliver Sia morto E come sia morto E E forse c'è un modo Per capirlo Hai ucciso Oliver Congratulazioni Comunque Il Danni causati A questo computer Non possono essere Ripristinati Per favore Non Restartare più Questo windows E se clicco restart Cosa succede? Se clicco restart Posso rigiocare Probabilmente Quindi Era una scusa Ecco Una cosa che volevo Provare velocemente Adesso Era andare Sulla sua E WSN Perché qua Magari possiamo capire più Perché è morto Intanto lui aveva una ragazza Di nome Jess Ovvero Non era Era un simp di Jess Ma Jess Jess Eh Lei Non lo amava La friend Zonato Quindi Boh Magari si è suicidato Per questo Arrivato a tanto Non lo so Siamo solo amici Mamma mia Mi sembra di rigiocare Di nuovo Di nuovo a Emily's away C'è un Oliver Ho ucciso me stesso Per mettermi dentro il gioco Io sono dentro questo computer Ma chi vuoi prendere in giro Oliver Non sappiamo Non puoi Cancellarmi Non te lo permetterò Vai fuori Con le scritte creepy Crede di samentarmi Vabbè Oliver Oliver insomma Mi ha mandato Tanti bei messaggi Minacciosi Guarda che ti faccio Arrestare Non puoi Sono morto Dio ti denunzio Quindi abbiamo capito Perché Oliver è morto Lui Ha messo letteralmente Si è suicidato A quanto dice lui Per essere il mostro Dentro il gioco Che era Oliver Mannaggia Hai capito E lui ha ucciso Anche altre persone Magari Quando veniva Scarmoblue Eravamo morti Poi c'è Uno che gli spammava E tipo È sempre stato Un po' un pezzo di erba Oliver Come si comportava Dalle chat Mi sembra un po' Un figlio di trota C'era gente Che voleva aiutarlo Con il progetto Ma lui no Lo so fare da solo Sono un figo Poi c'aveva Degli haters Che dicevano Suicidati E tu i puntini Domanda Sei uno stalker Io so quello Che stai facendo Ma che cosa dici Ti blocco E sei stato bloccato Da X-Wolf Non bloccarmi No non posso scrivergli Beh abbiamo capito Molte cose Ora non so se ci siano Altri segreti Nel computer Ma non credo E niente Questo è Credo il gioco Nella sua interezza Non so se ci siano Altri segretini O altri finali L'ho pagato anche 4 euro Sto gioco Del cavolo Da una parte Quindi boh Puoi restartare Qui e chiudere A sto punto Chiudo il gioco Ragazzi E speriamo Che Oliver Non vada invece Nel mio pc Con la 3080 E ho tante belle schede video Se tu ti azzardi Ti spacco di botte Oliver Hai capito Non azzardarti Ad entrare al mio computer Ti osservo Porco Porco Grazie a tutti.